Ben trovati. Nel nome di Salvatore Zuppardo lo scorso gennaio è nata a Noto una associazione, lo ricordiamo, Salvatore Zuppardo è scomparso nel settembre dello scorso anno e a Noto in tanti hanno voluto creare un'associazione che si ispirasse agli ideali di Salvatore ma che portasse avanti anche un tema, un tema molto caro a chi vive a Noto ma io direi a chi vive nel Val di Noto. La tutela del patrimonio. Tante iniziative sono state fatte in questo primo anno dalla nascita dell'associazione, una in particolare è stata fatta in Lombardia. Una invece partirà da Noto proprio tra qualche giorno e si ispira proprio a quel principio cui ho fatto riferimento prima, la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Noto e delle città tardobarocchie. In poche parole il Val di Noto. Ricordiamo la figura di Salvatore Zuppardo e parleremo fra l'altro anche di queste iniziative che in un connubio così simbolico hanno unito la Lombardia e la Sicilia con il figlio Corrado che dell'associazione è il presidente. Ben trovato. Grazie. Io inizierei col ricordo che tu hai di tuo padre, di Salvatore, per poi parlare delle iniziative in cantiere e di quello che già è stato fatto. Il ricordo sicuramente più importante di papà è di una persona immensamente innamorata del posto in cui viveva, Noto. Quest'amore lo aveva già anche prima di entrare in servizio nel comune di Noto, lui è entrato nel lontano 87 prima da vigile urbano, poi è passato nell'amministrazione. Come amministrativo ha ricoperto sin dai primi anni, è stato nell'ufficio di gabinetto, da vari sindaci importanti come Passarello, ma anche Leone, con gli ultimi poi con Bonfanti. Da lì l'amore è diventato sempre più forte per questa città. In questo legame lo sentivo particolarmente quando veniva a trovarmi su a Milano, perché sì c'era la felicità di venirmi a trovare, ma dopo un certo periodo doveva tornare nella sua Noto. Proprio da qui, da questo abbiamo preso spunto per i valori a cui ispirare la nostra associazione. Possiamo dire quali sono? Sì, appunto il primo sicuramente è quello della valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio artistico, che è un patrimonio sicuramente unico sia in Sicilia ma anche in Italia e nel mondo, appunto dal riconoscimento UNESCO, insomma, non è da tutti. Poi la cultura della legalità in un territorio comunque sia come il nostro, la Sicilia, dove c'è tanto bisogno di legalità, ma anche direi in tutta Italia e quindi ne abbiamo sentito il bisogno. Soprattutto questa diffusione vogliamo portarla nelle scuole, quindi inizieremo anche dei progetti nelle scuole in questo senso a breve, sia in Sicilia che comunque anche in Lombardia, perché come accennavi prima, proprio abbiamo voluto fare un progetto molto forte in Lombardia per il nostro territorio riguardante la ricostruzione, l'esempio che il nostro territorio ha dato dopo il disastroso terremoto del 1693. E quindi dare ai ragazzi della seconda media dell'Istituto Brianza la possibilità di vedere come dai terremoti non c'è solo distruzione e miseria, ma può rinascere un territorio ancora più forte di quello che c'era prima. Questo era il messaggio che volevamo dare, quindi il titolo proprio del progetto si chiamava Dal terremoto può nascere bellezza, l'esempio del Val di Noto. E quindi come questo territorio ha raggiunto l'eccellenza e quindi il titolo UNESCO. Adesso invece stiamo promuovendo un altro percorso dove ci piace coinvolgere i cittadini di Noto e del Val di Noto, ma anche chi in Italia avesse voglia di mandare qualche suo scatto, qualche suo ricordo della vacanza trascorsa nel nostro territorio. Parliamo del tema di questo concorso che fra l'altro scaderà il 31 ottobre, cioè chi volesse mandare delle foto, video può farlo entro il 31, poi magari faremo passare anche l'indirizzo dove mandare le foto e il materiale. Sì, intanto trovano tutto sul nostro sito dell'associazione che è www.salvatorezuppardo.org. Da lì basta andare sulla pagina del premio, si scarica il modulo d'adiesione, il regolamento e poi si inviano via mail le foto, sono massimo due foto. L'unica nota tecnica che abbiamo inserito è che le foto devono essere in formato JPEG, basta, per il resto le foto possono essere trasformate, libera e molto libera. Bianco e nero, colore, ritoccate, nessun problema. L'importante è la centralità dello scatto dove appunto il tema principe deve essere il Val di Noto. Proseguiamo, io vorrei parlare di questo concorso perché visto che fra l'altro si lega molto bene con il primo intervento che avete fatto in Brianza, ossia dal terremoto si può rinascere, si può risorgere, l'esempio è quello del Val di Noto, ma dal terremoto ci sono tante altre città che oggi drammaticamente continuano a vivere questo problema. Ecco, le indicazioni che sono state date durante questo vostro intervento in Brianza? Allora, le indicazioni sono indicazioni molto semplici per i ragazzi perché l'indicazione che abbiamo voluto dare, la prima indicazione è stata far vivere il terremoto, nel senso attraverso le parole dei testimoni intanto dell'epoca, quindi dal Tortora uno dei principali che conosciamo e da lì far mettere proprio i ragazzi dalla parte degli architetti e capire la ricostruzione, il momento della ricostruzione, quindi cosa evitare nella ricostruzione, cosa era stato disastroso nel precedente? Perché ad esempio ad Amatrice, soprattutto, ma anche nell'Umbria quando il precedente terremoto, la particolarità sono città medievali, quindi città che hanno ancora delle mura, sono città che hanno strade strette e questo invece non ci deve essere. Ed ecco l'esempio del Val di Noto, abbiamo molte più piazze rispetto a quelle che c'erano sicuramente nell'antica città, basti pensare alla piazza antistante San Domenico, piazza 16 Maggio, ma anche la parte di piazza del Municipio, che era sicuramente molto più ampia prima dell'intervento dell'abbassamento di Corso Vittorio Emanuele intorno alla metà dell'Ottocento. Cosa avevano capito? L'importante era avere un luogo di raccolta, dove non potevano cadere calcinacci, dove le mura non potevano sostanzialmente arrivare e in più anche nella costruzione hanno costruito delle case più basse. Non dimentichiamo che nel Barocco abbiamo più archi a tutto sesto, anziché archi a sesto acuto, che invece avevamo nel Gotico e nella precedente città medievale, e molte torri campanarie che invece hanno la nuova noto, non troviamo. Sono quasi tutte inglobate all'interno della facciata, basti pensare alla Chiesa di Santa Chiara, ma allo stesso Chiesa del Carmine, lo stesso anche vale per la Chiesa di San Carlo al Corso. Quindi hanno eliminato tutti quei pericoli potenziali che vi erano. Questo era il messaggio che volevamo trasmettere, nel senso che dobbiamo stare attenti a come ricostruiamo, quindi la prevenzione, che forse in Italia siamo ancora abbastanza indietro. Io prima di concludere vorrei anche citare e far vedere a quanti ci seguono il logo della vostra associazione, perché richiama tanti aspetti familiari, gli occhiali e i baffi, tipicamente due cose che erano di tuo padre, e poi anche questo continuum, cioè il legame tra Salvatore Zuppardo e la sua città, perché c'è noto, c'è l'azzurro, c'è il color miele, la pietra d'oro della città barocca. Sì, il logo è stato elaborato appunto per ricordare in pieno la figura di papà, quindi quest'unione tra gli occhiali, i baffi che lo hanno sempre canarterizzato, considerate che io non ho un ricordo di mio padre senza baffi, e in più poi il colore del nostro cielo, che è un blu molto particolare, e poi il colore mielato della pietra che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, e quindi nel logo ritroviamo proprio il profilo della cattedrale. Quindi siamo alla fine, vuoi ricordare l'appuntamento, la scadenza? Allora, la scadenza è il 31 ottobre per inviare le foto via mail su segreteria-lasalvatorezuppardo.org, mentre la premiazione sarà il 18 novembre alle ore 18 presso l'ex convitto Ragusa. Grazie a Corrado Zuppardo, grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.